ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo nuovissimo video del gobo toscano un momento perché devo ripigliaffiato devo ripigliaffiato devo ripigliaffiato perché siamo in chiusura di un'altra trattativa a delle cifre assolutamente da quello che trappelano certe da dove arrivano certe informazioni sono cifre che hanno del clamoroso per la juventus allora prima di entrare in merito alla trattativa ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale del gobo toscano lasciate un mi piace condividete il video commentatelo poi dopo dicendomi la vostra e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti calcio mercato news mondo juventus extra campo calcio giocato pre post partita live e quant'altro ci sarà tutto quest'anno tutto sul gobo toscano tutto diventerà quasi una televisione una televisione umile una televisione per tutti i tifosi allora ragazzi andiamo ad analizzare subito la trattativa perché ha del clamoroso 35 milioni totali e ingaggio pagato a metà la juventus chiude probabilmente un'altra trattativa e forse la trattativa allora andiamo a leggere cosa abbiamo trovato messo a posto il centro campo con douglas luiz e turam adesso i pensieri di giuntoli si stanno concentrando sull'esterno offensivo che dovrebbe prendere il posto di federico chiesa ormai in uscita andiamo a leggere andiamo a leggere sono stati diversi i nomi usciti fuori nel corso delle ultime settimane ma ormai la scelta in casa bianconera sembra essere stata presa per per uno dei nomi accostati la vecchia signora sarebbe già stata trovata la formula dell'affare quindi parliamo di un colpo in entrata e dovrebbe essere in chiusura ecco di chi parliamo è fatta per già don sancio il nome già don sancio esterno dello united che ha giocato la seconda parte stagione del borussia dortmund raggiungendo la finale di champions league che nei piani di tenag non rientra è in dirittura d'arrivo la trattativa tra sancio e la juve prestito oneroso a circa 5 milioni di euro con un diritto di riscatto intorno ai 30 30 che possono diventare anche 35 che diventa obbligo poi nel caso in cui vengono raggiunti gli obiettivi sia di club che personali lo united parteciperà a parte dello stipendio questo è una un colpo da 90 ragazzi un colpo da 90 cioè immaginatevi voi immaginatevi voi con 5 milioni quest'anno ti prendi sancio 5 milioni di euro poi il riscatto che sia a 30 35 porta una cifra totale a 35 40 milioni il riscatto è diritto che diventa obbligo solo se la juventus arriva tot se il giocatore segna tot se gioca x e se fa gli assist y cioè è basato sul rendimento e quindi quale formula migliore per una juventus che deve testare dei giocatori e non può rischiare un 40 milioni o 35 milioni subito senza avere delle certezze e delle garanzie per il rendimento del calciatore cioè secondo me ragazzi una trattativa da 10 e lode da 10 e lode una trattativa che se va realmente in porto giunto le avrebbe bisogno altro che della statua avrebbe bisogno di veramente di tutto quello che si può fare per un direttore perché ragazzi giuntoli è arrivato l'anno scorso ha avuto un anno improponibile con allegri che gli bloccava tutte le trattative cioè sancio era della juventus a gennaio allegri ha bloccato la trattativa che vuol dire non è che oggi stiamo sognando dicendo sancio alla juve perché non stiamo sognando perché sancio alla juve c'era già l'anno scorso c'è una differenza che l'anno scorso c'era allegri e non me lo voleva questo nocetiaco motta gli dice giuntoli portami gli sti giocatori portami giustamente giustamente ma a 5 milioni e poi il resto lo paghi lo riscatti e semmai lo dilazioni nei prossimi tre anni vi faccio un esempio altri 30 milioni in tre anni sono 10 milioni l'anno ovviamente poi si andrà a trattare sull'ingaggio perché se la juve ne paga 4 e mezzo 4 ora e gli altri 4 a 3 e mezzo in manchester united la stagione dopo bisogna vedere chi fa sancio quanto pretende però credo che si possa arrivare se gioca bene a un'intesa sui 7 8 milioni come li volevano dare a rabbio che si voglia andare a rabbio e poi ci si fa un ruolo per sancio ecco perché vi dico ragazzi non è un sogno anzi se vi ripeto che era già della juventus vuol dire la juventus c'era già arrivata a gennaio il manchester è contento della trattativa il manchester risparmia e sa che l'anno prossimo guadagnerà altri soldi risparmia guadagna perché la juventus pagando i 5 milioni di prestito e dividendo l'ingaggio a metà è come se gli pagasse interamente l'ingaggio ma il prestito diventa gratuito quindi il manchester non lo paga non lo paga niente perché gli paga la metà ma gli entrano 5 milioni quindi lo paga zero capito è fantastica come cosa è veramente fantastica è un'operazione spettacolare da parte di giunto e da parte della juventus quindi sosteniamo questa squadra perché tiago motta stamattina è arrivato aj media l'ha fatto le visite tutti su staff ora vedremo quando parlerà ma ragazzi miei tiago motta sta tirando su insieme a giuntoli uno squadrone della madonna quest'anno non ci sono alibi non ci sono alibi ho visto diversi video di ieri di oggi diversi youtuber che dicono tiago motta però con questa squadra sei obbligato comunque a provare a vincere il campionato hanno ragione questo hanno ragione ovvio che se non lo vinci perché c'è dieci episodi di var contro e arrivi a meno uno dalla prima ragazzi capiamo che bisogna essere obiettivi se non lo vinci perché va arrivi secondo a otto punti anche no anche no te la devi lottare fino all'ultimo allora ci può stare anche la sconfitta ma io credo che ad oggi con questi acquisti arriva sancio con turam e douglas e se aggiungiamo anche coop miners la juventus è la squadra più forte della serie a ma non è che ha ridotto il gap con l'inter ma chi ha ridotto ragazzi ma mamma vi rende conto di mercato sta facendo la juventus o no c'è che nella ferentina 15 milioni possono diventare 17 18 mamma ma stiamo scherzando e gente ancora ha il coraggio di mettere la faccia su youtube e dire è stato il più grande errore della juventus vendere ken perché è un giocatore fortissimo bene e puntano su emma gli hanno annullato i gol regolari per carità di dio ma un attaccante non dovrà mai fare tre gol in una stagione perché anche se ne avesse fatti tre ma che lei è un giocatore andate su mettiamola smettiamola il problema è che tanti sono di legno di coccio addirittura e vedono solo non mai i demeriti della juventus o di un giocatore della juventus vedono sempre il male dappertutto tranne in casa propria perché la juventus in male l'ha anche in casa da diversi punti di vista parliamoci chiaro ora non voglio ritornare sul discorso elkan ma è semplicemente i giocatori e l'allenatore avevamo bisogna far mea culpa se rinnovi se riprendi allegri a quelle cifre per quattro anni tu devi far mea culpa l'ha fatta agnelli bene dovrà fare agnelli mea culpa ma quelli arrivano dopo sanno che hanno questa carta da pelare quindi non è così sempre così scontato e la colpa è sempre degli altri cioè quando quelli che danno la colpa sempre agli altri sono sempre stati storicamente parlando gli interisti io direi che mi sono rotto un pochino coglioni di essere paragonati all'interisti come l'interista gli dà fastidio se paragonai gobbo a me gobbo mi dà fastidio se paragonavo all'interista basta basta se la juve perde ci sarà un problema anche di var ma se perde perché perché un arriva a vincere se perdi di 20 punti che te ne frega se agli hanno dato due rigori in più e a te te hanno levato due gol se t'arrivi dietro di 20 punti ma quando la juve vincea gli scudetti e l'interista andando arrivando tra i 20 punti che si dicea che loro facevano discorsi ma hanno rubato la juve la juve ha bua qualche favore che bisogna di di no perché se no ci si figlia per fondelli però e noi si è sempre detto sì ma non ti attaccare a tre favori che ti portano ai massimo nove punti in più se tu sei arrivato a 25 punti dalla juventus santi dio ecco che vi voglio dire tiriamo fare un po l'orgoglio torniamo a essere juventini e torniamo a essere gobbo non facciamo le 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 vedove di di sistema è giusto dire che la figgc non funziona siamo tutti d'accordo però se non si arriva a vincere lo scudetto per 20 punti diamo la colpa a noi stessi o almeno ai giocatori all'allenatore se si arriva lì e si perde un punto possiamo anche dare le colpe attribuirle al sistema corrotto del calcio in italia detto questo siamo un po andati fuori argomento ma sancho è pronto a firmare un contratto con la juventus stiamo pronti stiamo pronti perché ogni giorno è buono perché questa operazione permette la juventus di farla anche prima della cessione di chiesa cosa non può succedere con cup minor quindi vediamo stiamo molto attenti alla trattativa il mese di luglio è il mese più caldo anche se agosto ci saranno delle sorprese ma luglio è caldissimo mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like commentate non dividete attivate la campanella delle notifiche almeno non vi perdete niente sostenete sempre il canale del gobo toscano fino alla fine forza juve fino alla fine gobo toscano perché il gobo toscano e bussi a tutti voi forza juve dai facciamo i gobi